Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news Allora, ho ascoltato questo brano di Lil Tecca, tipo? Ovviamente so che non si pronuncia così. Vabbè, non è un capolavoro, non è nulla di eccezionale. Stilisticamente il livello è molto alto. Dico, non mi ha colpito in maniera particolare. Però questo non vuol dire che, nel senso, non abbiamo un artista che sa fare il suo lavoro e soprattutto sappia arrivare al suo pubblico. Ma la cosa che mi fa morire da ridere è che sotto tutti i commenti ci stanno persone che tipo scrivono questa canzone è talmente grandiosa che io ero narcolizzato, violento, ora sono governatore. Ci sono tutti commenti ironici, veramente sbeffeggianti. Abbastanza umilianti, nel senso che, senza motivo, ma un continuo. Cioè, qualcuno sa se c'è una shitstorm in corso, se quest'artista ha fatto qualcosa. Perché può diventare un bel filone per il monologato. seguirlo e divertirci sia a leggere i commenti sia a vedere un attimo come un artista reagisce davanti a una roba così. Cioè, quando i commenti più cliccati sono quelli. Cioè, è come quando ci sono i commenti, diciamo, che mi danno dello speculatore e fa ridere già il commento. Poi la reazione, capito, in cui ci godi pure e fa ridere ancora di più è la stessa cosa. Quindi, se qualcuno sa qualcosa, scrivetelo qua sotto. Perché, insomma, sto personaggio, tra l'altro, devo dire, a livello proprio di immaginario, proprio quindi lui, sua forma estetica, stile di approccio alla strumentale, eccetera, ma, devo dire, altissimo livello, nel senso, non a caso è un artista comunque molto, molto rinomato. Cioè, due milioni di iscritti su YouTube, insomma, non è la prima volta che lo sento. Però non mi ha colpito più di altri, non mi ha colpito meno di altri. Questo è, non è proprio il mio genere. Però, ci sta. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.